Una lite tra vicini finita male, stragi qui a Trento la Ducenta, il bilancio delle vittime sale a quattro. Questa non è la prima volta che succede una cosa del genere? E la legge che fa scrive in Italia? Quanti anni ha questa guardia? Ma ha 46-47 anni, sposato pure, non so quanti figli ha e poi si abitava proprio di fronte a lui. E proprio ha fatto una tragedia che manca noi, capiamo, siamo proprio scioccati tutti quanti noi proprio per la tragedia che ha successo. Quale c'era il servizio questa guardia di carci? A Secondigliano. Secondigliano? Secondigliano. Là faceva il servizio proprio questo qua, proprio nella guardia di carci. E lui stamattina ha preso la pistola e ha sparato la mamma e tutti i due figli. La pistola di Rodinanzi? Rodinanzi, due figli, mamma e papà e due figli. Che cazzo no? Come ti ho ritirato? Guarda la panela. Non è mica sopra. E' la mia vita. E' la mia vita.